Qualcuno ci ha creduto davvero che siamo a novembre e ha indossato il cappotto per fare una passeggiata sul lungomare di Monopoli, ignorando i 25 passagradi di un autunno anomalo. A Calaporta Vecchia, per tutti gli altri, è un giorno di luglio come tanti. Il mare è una tavola, non tira un alito di vento, tanti sono in giro in barca, c'è chi sfoggia lo yacht e chi i muscoli delle braccia per un giro in canoa. C'è chi fa come se fosse a casa propria e chi è a casa non ha alcuna voglia di tornare. Da dove viene lei? Dalla Val d'Aosta. Ah, dalla Val d'Aosta, è abbronzatissima. Ha visto? Beh, cogliamo l'occasione, una splendida cittadina così. Quando finisce la vacanza? Purtroppo sabato. Quanto tempo resta qui? Fino domani mattina. Bella vacanza? Bellissima. Ha fatto il bagno? Certo, io lui. Questo abbronzatissimo signore sembra che sia qui da mesi, ormai è tutt'uno con lo scoglio. Lui praticamente dorme qui? Più o meno. Tra chi ha il privilegio di godersi lo spettacolo dall'alto e chi ha raggiunto monopoli in bicicletta, vince chi si gode le ultime nuotate con un tuffo nel mare cristallino. Grazie. 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 Grazie.